L'ex presidente degli stati uniti d'America, Donald Trump, pensate che di recente è stato protagonista di un siparietto che ha dell'incredibile. Era, diciamo così, in Pennsylvania e proprio Donald Trump, dopo essersi diretto verso l'uscita di un supermercato, si è avvicinato ad una donna giovane che si trovava in fila per pagare la cassa, ha allongato una banconota ben 100 dollari presa dal portafogli. Diciamo quindi che ha durato questa cifra, questa banconota regalandola a questa donna 100 dollari, ma sembra che i più siano letteralmente contrari, molti infatti sostengono che non possa farlo perché avviene di molti, è un'azione illegale, questo è quello che sostengono diverse persone, va bene? Eppure però Donald Trump non ha avuto problemi, lo sappiamo, Donald Trump non è uno povero, uno ricco, uno benestante, quindi dal punto di vista economico non ha problematiche bisorta, va bene? Grazie a tutti utenti di Youtube, questo video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, per alcune cose è stato un gesto di grandissima generosità, di grandissimo altruismo. Buona sera da voi, ciao!